... Gasparri ti raccomandò, ma la raccomandazione... Questa è una cosa che sa lui, io non la so. Lui dice di averti raccomandato per Sanremo, ma... Ma io non ho bisogno di raccomandazioni, anzi le odio. Millanta praticamente che sta raccomandando. Ma io ho bisogno di raccomandazioni, non ne voglio. Esatto, quello dicevo, Albano ha bisogno di raccomandazioni. No, gliel'ho fatta e non è servita. È stata una cosa che serve a lui, non ho mai visto. Forse perché l'ha fatta la prima volta che mi hanno cacciato fuori da Sanremo con una canzone straordinaria. Colpa di Gasparri. È stato quell'anno. E' stato un bel sorriso che sta in felicità.